Agnelli sacrificali E questa è una delle espressioni più utilizzate quando si parla dell'omicidio di Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano. Due innocenti, due vittime scelte a caso, la cui completa estranetà a qualunque tipo di ambiente malavitoso, doveva essere nota, doveva emergere in maniera inequivocabile che quella pioggia di colpi di Kalashnikov era un segnale da recapitare a qualcun altro. Noi siamo di una famiglia, tutti dei lavoratori, di una famiglia molto seria. Non potevo mai aspettare che uno dei miei fratelli ricompensi la mia famiglia, lo avrebbe ucciso in questa maniera qua. Non sarebbe mai aspettato di un bel genere, mai. La C-Dossieve in onda tutti giovedì alle 13.30 e alle 20, ma potete rivedere le puntate sul sito www.lactv.it e potete scriverci al nostro indirizzo email dossierchiocciolalactv.it